Gelosia contro possessione, Cami. Allora, ti dico la mia, in un rapporto secondo me la gelosia fa parte del gioco. Ok. Ed è giusto, secondo me, io voglio una ragazza che sia un minimo gelosa di me, è quello che mi fa capire che alla fine ci tiene, che marca un po' il suo territorio. Io odio le ragazze, odio, non mi piacciono le ragazze che mi dicono, no, ma io ho gelosia zero, io ho possessione zero. Ok, allora... Aspetti, se manca quello. Sono d'accordo con te su quanto riguarda il discorso gelosia perché ci deve essere, è parte anche quello della relazione. Sicuramente poi è una questione di carattere, di che tipo di relazione, da quanto stiamo insieme, quindi capire a che livello è. Però sono d'accordo che ci deve essere. Ok. Ok. Invece, sul discorso gelosia, secondo me c'è anche modo e modo di esternarla, perché c'è anche modo... ti dà valore esternare ed essere geloso, se lo fai bene. Cioè, il fatto che io lo dica ti dà valore? Cioè, riuscire a dirlo, impacchettarlo in una comunicazione corretta, di per sé, può dare un'attività di stare gelosia. Beh, sì, sicuramente sì, anche perché poi è anche un aspetto caratteriale, no, che emerge, che emerge. Cioè, del notare certe cose e verbalmente dirle e non tenersele dentro. Quello sicuramente sono d'accordo con te. Direi questo, no? Noi abbiamo parlato della possessione, ok? Della differenza con la possessione. Ecco, là entriamo in un campo dove poi l'eccesso sfocia in altre cose. Io dico sempre questo, non so se te siete d'accordo, che noi siamo abituati a dire è il mio ragazzo o la mia ragazza. Assolutamente. Assolutamente. E quindi questo è un po' l'ago della bilancia, no? Se ci pensi. Sì, sì, cioè ti dico, dirle, guarda, io comunque sono abbastanza, sai, un po' l'autostima a pezzi in questo periodo perché ho troppa gelosia, sono troppo geloso di te, cioè è da marcio. Mentre utilizzare una comunicazione un po' più alfa, cioè della serie, io in genere non sono geloso, sono geloso il giusto. Di te lo sono e mi piace anche perché tu sei mia, ok? È bello, è una donna secondo me apprezza, se chiaramente non è il carattere di uno che poi sfocia in possessione, adesso ci arriviamo. Sì, sì, esatto, se la metti in questa maniera sì, perché è comunque un apprezzamento, è comunque una cosa in cui tieni. È romantico qua, secondo me, è poetico, secondo me. Ok, hai avuto tanti studenti gelosi, cioè che erano marci a livello di... Sì. Sì, spesso sì perché non riuscivano a capire quando, quanto e dove era il punto giusto. Quindi a volte è capitato che hanno perso delle relazioni chiaramente per questo. Minchia, ok. Ma tu hai seguito mai qualcuno che voleva gestire la sua parte di gelosia con la partner? Sì, diciamo sì, indirettamente sì, nel senso che, cioè, gestiva nel senso di lavorare su qualcosa che era già successo, no? In questo momento. Sì. Ok, sì, sì. Sì, sì, per quanto riguarda questo sì, sicuramente perché poi si entrava in quella situazione di bisogno, di disagio quasi emotivo, dove chiaramente non c'era più una libertà, dove non c'era più un rapporto vero e proprio, ma c'era il cosiddetto controllo e questo sappiamo che purtroppo noi non possiamo controllare le persone, qualcuno lo sa fare, ma invece no, non possiamo controllarle, ma possiamo influenzarle, che è diversa come cosa. Più cerchi di controllarle e poi si ritorce automaticamente contro con tutti gli interessi del caso, per non dire altro. E possessione cosa si intende, secondo te, quando si sfocia e poi si perde la persona in cui si sta alla fine? Beh, si sfocia per diversi motivi, sicuramente quando cerchi di annullare la vita della persona. Ecco, quando tu vuoi essere onnipresente e quindi manca anche quell'ingrediente di indipendenza, ci deve essere quel sano ingrediente, ma pretendi o annulli l'altra persona, la vita sociale dell'altra persona, questo diventa un problema, perché associa in te non più qualcosa di positivo, ma qualcosa che toglie. Assolutamente sì. Sappiamo quanto è importante. Assolutamente sì. Secondo te esternare gelosia è sbagliato oppure no? No, cioè, parliamo di questo. Attento metto la luce qua. Esternarlo? Beh, se ci sta un motivo reale, concreto e valido, su cui dirlo, perché no? Perché no? Sì, non posso fare il pazzo, cioè il pazzo furioso. No, ma te lo chiedo perché spesso mi dicono, eh, ma io cazzo mi dà fastidio però che faccia così, e sono atteggiamenti che assolutamente potrebbero dare fastidio, però non glielo dico perché poi faccio la figura del bisognoso, faccio la figura di quello che non è capace di trattenersi, faccio la figura, poi la perdo, ma secondo me è sbagliato fare questo atteggiamento? No, beh, beh, fa parte anche questo, cioè nel saper dire la propria idea su qualcosa, certo, fa parte di questo. Torniamo a un discorso dove tu hai un carattere e fai presente quello che non ti va bene, sicuramente sì. Il tutto sta in come le dici le cose, secondo me, cioè quello, punto focale. Devi trovare il momento giusto e la situazione reale, ok? Non deve essere un film tuo mentale, una proiezione futura di chissà che, qualcosa di tangibile e concreto, poi basta, ripeto, dirlo senza esagerare, senza fare anche con la santa ironia, che ci sta tranquillamente, ma far arrivare il messaggio. Importante che arriva! Cami, grazie mille! Ciao, ciao! Alla prossima, ciao, ciao! Alla prossima!